Gli oltre 230.000 euro che il pubblico, regione e comune di Bassano dovranno spendere per chiudere la partita sulla centralina di via Pusterla e la spiaggetta sono un conto salato oppure si tratta del male minore pur di ottenere il risultato che i bassanesi e noi di Rete Veneta chiediamo a gran voce da anni. Dopo i dubbi e le perplessità dell'opposizione, l'amministrazione comunale risponde con l'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Andrea Zonta. La centralina ha un suo percorso, ha fatto un suo percorso legale e i legali hanno proposto l'intenzione di poter transare con il privato e la maggior parte degli attori che sono partecipi a queste cause hanno accettato. Zonta conferma che non tutti i soggetti interessati parteciperanno alla transazione. Un privato in particolare non parteciperà alla transazione e lui porterà avanti le sue cause. Noi nel nostro caso, nel caso di Bassano del Grappa, l'importante è cercare di rimuovere quel cantiere e di poter ridare dignità a quel luogo. Con questa transazione lo possiamo fare e pertanto portiamo avanti l'istanza che sarà approvata in giunta comunale o questa settimana o la prossima settimana. E sulla questione economica, in particolare i 30.000 euro che il comune pagherà alla ditta Belfiore, Zonta non usa giri di parole. Noi riteniamo che questa sia una cifra, ce l'hanno detto anche gli avvocati, congrua per chiudere tombalmente tutta la questione. Intanto a Bassano la notizia della sempre più vicina riapertura della spiaggetta suscita già entusiasmo e approvazione. È una buona notizia perché se no l'altra spiaggetta, quella più in fondo, è molto più distante e quindi è un po' più difficoltoso arrivarci, però comunque è sempre un buon punto per ritrovarsi anche quando diventerà più bello il tempo. Sì, sì, penso lo stesso anch'io. Sì, sono contento perché è un luogo di ritrovo anche per la gente che ha voglia di vedere una parte naturale di Bassano. Vedo per televisione quando passano le parole che è scritto, vedo, vedo. Quindi soddisfatta di questo ritorno della spiaggetta a disposizione dei Bassanesi? Sì, sì, bene, 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 bravi, bravi.